Io sono Manuel Frassinetti, titolare della tabaccheria in via del Pelugino numero 2 a Modena e ho il piacere di presentarvi Adriana Golinetti. Propone una serie di opere, si tratta come soggetti degli ignomi, dei funghi o comunque degli scorci primaverini. Riportate su vetro tramite la tecnica del penarello, come sfondo ha sfruttato un foglio di carta crespa, in questo modo si ottiene un effetto di sfondo molto particolare.